Musica Signori e signori Inditi, Rambo da Torre del Greco Napoli Con maestro di eccezione Nicola, vieni, vieni Torniamo chiaramente alla categoria A Quindi innovazione, giusto? C'è un pezzo bellissimo Il titolo è straordinario Appartiene a tutti noi È un santo che appartiene a tutti noi San Michele Santo guerriero Santo tanto apprezzato Soprattutto dopo l'unità d'Italia È l'unica figura A cui il popolo può ricorrere Per sperare Per ritornare a sperare Bene E' un pezzo bellissimo E' un pezzo bellissimo È un pezzo bellissimo E' un pezzo bellissimo Sì, sì, sì. Rialto a esta guerra. Non ti senti. Io ti lasci forza in manca novesca. Ma guarda lasci forza. Io ti lasci forza. Grazie a tutti. 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 Grazie.